Richard, Anderson, Gutierrez, Hoseda, il pivot classe 1989 colombiano e finalmente un nuovo calcettista della Sandro Abate. Nella passata stagione ha vestito la maglia dello sportiva Boca d'Equador, ha militato anche nel Toulon, Elite Futsal, nell'Allianza Plata Nera Futsal e nel Caracas Futsal Club. Anche in Brasile ha giocato per il gremio Samario Futsal. Il calcettista sudamericano è tra i giocatori simbolo della selezione colombiana. La Sandro Abate ha chiuso questa importante operazione di mercato grazie al contributo dell'agenzia Garcia Sport Management, ben rappresentata da Alexander Bryan. Sono felice di arrivare in Italia e giocare con la maglia della Sandro Abate di Chiara Gutierrez, perché è un club che seguo da tempo. Per me è una gran fortuna poter giocare in Serie A con uno dei migliori club italiani. Mi hanno parlato molto bene della società, della città di Avellino, con i suoi tifosi che sono molto calorosi. Non vedo l'ora di abbracciare i nostri supporters e difendere i nostri colori. Sono qui per vincere e per dare il mio contributo. Queste le parole del colombiano, mentre nel video di ripresentazione ecco cosa promette alla piazza Irpina. Ciao, sono Richard Gutierrez e sono molto contento di pertenere al gran club Abate Futsal. Vengo a entregarle tutti i miei golli, i miei energeti, i miei entusiasmi per migliorare il nome di questo club. Quindi grazie per il supporto. E vamos Abate!